E' opportuno giusto di invitare voce a Felix, chiedo al coro di Felix di intervincinarsi, nello specifico Ron Carpenter e Jackie Morham che sono i due direttori del corso. Vi parlo un attimo del coro. Durante gli anni l'organizzazione è cresciuta e ogni anno parteciperò più di 300 ragazzi che vanno dagli 8 ai 18 anni. Il ruolo del PCC nella comunità è diventato molto rilevante. Infatti il coro ogni anno partecipa ad una serie di concerti per fers e natalizie o concerti di primavera in vari teatro. La madre, Roberta, Emanuele, Salvo e Laetitia, per sua ospitalità. We would also like to thank, so thank you. The first song that we're going to sing for you today is from our region of the United States. La prima canzone che faremo è un omaggio ai nativi degli Stati Uniti. Ciao. Hallo. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti